... ... Ma dove ti sei cacciato? Buon Ferragosto, signor. Ma che dici? Ma io non sei diventato matto. Ma signor te che il caldo ti ha dato. Buon Ferragosto, che siamo? Mi fa da gusto adesso? Scusa che sei dimenticato che mi hai dato un appuntamento. L'appuntamento era per le nove. Adesso sono le dieci. Ebbè, un'ora di ritardo. Io aspetto. E no, sei tu che sei venuto in anticipo. Come sono venuto in anticipo, scusa? Io vado con l'ora regale. Come sarebbe a dire? Io sono conservatore. Ah, vai con l'ora solare allora tu. Conservatore in tutto, anche nel vestito. Guarda se uno oggi, al giorno d'oggi... C'hai di rire come adesso. No, no. Mi sei in grise. Come io? Non sono stato mai a Londra. Sì che ci sono stato a Londra. Io invece no. Ma ecco, si vede, si vede. Questa è calzone a fantasia, tight e bombetta. Va bene, va bene. Io vesto l'inglese. Ho capito. Io vorrei sapere perché mi hai dato l'appuntamento, perché mi hai fatto... Mi hai fatto... Che fai? Che fai? Ah, eh? Mi dice a rire, mi sto mettendo i guanti. Che fai? Ma mettere i guanti? Che faccio? Lo vedo che ti metti i guanti, ma... Con quell'armese là... Ebbè, scusa, questo cos'è? È un calzatore per le scarpe. Sei iscritti che per le scarpe? No. E io mi calzo quello che vuoi. E vada su questo cos'è. Non ce l'hai parito. Ecco. Ma no, stai a posto. Io vorrei sapere con tutto questo caldo che bisogno c'è di infilarsi qua. Per l'igiene. Per l'igiene. Perché io sono igienico. Come sarebbe a dire se sei igienico? Sono una persona pulita, modestamente. Con questo cosa vorresti dire? Scusa. Hai detto modestamente io sono pulito. Vorresti dire che io sono sporco? Che ne so? Tu ma che ne so? Tu ma che ne so? Oddio, da vicino non si direbbe. Vai a piacere, guarda, guarda. Beh, adesso... Perché dormo il rego e io faccio il bagno tutte le mattine. Vai alla sporcazione. Come sai, per uno che fa il bagno è sporcazione. Si capisce. Come si capisce? Ma scusa, se tu c'hai una camicia pulita, la cosa fai? La lavi? Eh no, che la lava. Non la lava? Eh no. Perché lo la lavi? No, è ovvio perché è pulita, no? Oh. Se invece viceversa, dette non congetto, la camicia è sporca, tu cosa fai? E allora la lava. E perché la lava? Ah, ma perché è sporca. E tu perché ti lavi? Ma perché sono sporca. Sono zonere. Scusa. Ah, scusa. Fammi la vola, Paolo. Eh, 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 eh. Eh, no, allora scusami, ma con questa tua teoria, dico tu, tu non ti lavi mai. Mai, mai. Non ti lavi mai. Lo posso giurare sui, 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 sui due capelli. Sì, fa il giuramento. Non ti lavo. Guarda, guarda. Mi dici perché mi hai fatto venire qua? Qua è già fatto tutto il giorno, che non ti ho visto, sei sparito dalla circolazione. C'è un appuntamento. Un appuntamento? Un appuntamento. Fai i portici? No, alla piazza. Vabbè, alla piazza dove erano i portici, no? Quelle arcate. Arcate, portici, portici. Adesso si chiamano portici? Ma adesso. Sono sempre chiamati portici. A me se non concesso. Eh, a me se non concesso. Sei arrivato lì dove ci sono le... Mi sono fermato, non mi dirà. Sì, davanti alle termini di Diograziano. Chi? Sei arrivato a Piazza delle Sedda, ci sono le termini di Diograziano, no? Non l'ho vista, devo iniziare. Allora che me lo fermi. E volevi perdere di Diograziano? Ma è morto, no? No. È morto Diograziano? Eh, certo che è morto. Un po' di previsione. Allora, e quando è morto? Saranno sdomilati. Ragazzi, come passa il pezzo. Hai fatto caso che murano sempre gli stessi? Allora, ma... Senti, fammi piacere. Dimmi che cosa hai fatto, perché... Sei arrivato... Hai fatto Piazza delle Sedda, sei arrivato a Piazza delle Sedda. Che sei? Cosa c'è? E' meglio un esipodio che mi è capitato. No, non ho capito che... Un esipodio che mi è capitato stamattina. Non ti capisco, parla chiaro. Un esipodio che mi è capitato. Esipodio. Sei ciorno? Cosa sarebbe questo esipodio? Esipodio. Episodio vorrei dire. Episodio. Adesso si dice così. Come adesso? Ma quando c'era la lingua italiana ha sempre detto episodio. Ammesso non vuoi c'è? Ammesso non vuoi c'è. P.S. No, S.P. Allora, in mezzo a questa piazza... Sì. C'è una fontana, no? Ma che c'è da ridere? Quella fontana non vuoi mai vedere nessuno. E' stata la cosa che mi è capitato a me, da ridere. Eh, racconto. Questa fontana, ci sono tre donne sopra che prendono i frischi. No, no. Quelle donne, come ne chiami te, sono quattro. Eh, già. Beh, si vede che uno stava poco bene, non è scendo. Stava poco scendo. Allora, io mi sono messo, di che metto? Sotto a... Ah, eh, eh. Sotto a una canzone. Io a guardare. Eh. Tutto a un tratto mi è venuto rincontro un pezzo di giovanotone che era così. Ah, sì. A me le spalle così. Ah, grossi. Hai tante. Eh? Hai tante. Non lo so, sei un aiutante. È un pezzo di... Sotto a un rincontro. Ah, hai tante. Hai tante. Un pezzo di giovanotone grosso. Ah, hai tante. Sì, va bene. Ma, ma ho guardato fisso negli occhi, eh? Sì. Con una ghiglia sulle labbra come una ghiglia, cosa faccio? Eh, questa ghiglia. Ghiglia. Un ghigno, un ghigno. Sotto a un ghigno. Era un ghigno. Eh. A me mi è perso una ghiglia. Vabbè, come ne fai? Allora, stai guardato? Stai guardato, fitto, 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 che ha detto Pasquale! Ah, addio. Ah, addio. Eh, Pasquale. Ma chi c'è da lì? Dici che ero un pezzo, ti cercavo. A me? A me? Ti cercavo? Ah, figlio di un cane. Ma hai troppo figlio di un cane? Sì, finalmente ti ho trovato. Eh, alza la mano. Oh, mi ha mollato lo schiaffo. Ma dà uno schiaffo? Ma forte! Un momento, fitto, fitto di un cane, dà uno schiaffo. E tu? Io pensavo, su Mimì, chissà sto stupido dove vuole arrivare, capito? Vedi, pensavo. E poi? Ma ha preso nel vetto. Ma ha preso nel vetto? E mi spattino vicino al muro così. Lo lasciavo fare. E che lasciarli fare? Ma scuole! Che tasti da ammazzate! Ma fai due! Ma vado là! Un, due! Ma danno due schiaffi! Due schiaffi! Due schiaffi! Allora, e tu? Sta cosa mi scompisce! Come è? Ma non è? Ma non è? Ma non è? Ma non è? Io pensavo farebbe meglio chissà sto stupido dove vuole arrivare. Tu pensare? E poi? Ma scuole! Sempre ha detto. Togli il cappello! E tu? Togli il cappello! Non gliel'ho fatto dire due volte! Ah no! Si fa scuole maledetto! Si debbi sfondare il cranio! Pum! Un cazzotto qui! Che c'ho ancora la figozza! Ma andato! Pure un pugno a te! Ma tu! Scusa! Che faccio? Io pensavo chissà sto stupido! Non lo vedi là? Ma che un fritto? Ma che ridi? Mi fai rabbia? Ride, ride! Ma ma pensavo! Pensavo! Ma scusa ma perché non hai raggiunto? E che mi frega me che ci ho fai fuori io?